Insomma è un'operazione importante, soprattutto anche politica, perché in un mondo in cui se va di capire si va verso soluzioni diverse, si conferma che il ciclo integrale delle acque rimarrà pubblico anche con l'apporto di questi nuovi 87 dipendenti. Soprattutto un obiettivo che ho fortemente voluto e abbiamo fortemente voluto. Ho usato anche il personale perché in alcuni momenti c'è voluta proprio il mio impegno personale per raggiungere questo obiettivo, che giuridicamente, finanziariamente sembrava davvero difficile. Invece l'abbiamo costruito nel rispetto delle norme, di tutti i vincoli, un'operazione importante che rafforza ABC, elimina una partecipata che non serviva, assorbe circa 100 lavoratori non mettendoli in mezzo a una strada, ci fa fare risparmio e consolida la mission di ABC, che non è solo l'acqua che sgorga dai rubinetti, ma il ciclo completo della depurazione, delle acque, delle fogne, con professionalità importanti. Quindi non è un'operazione semplicemente come può pensare qualcuno che salva dei posti di lavoro, che già di per sé è una cosa dignitosa, ma serve questa operazione perché quei lavoratori ci servono, ci servono per garantire quei servizi che sono in mano pubblica, come facemmo quando trasformammo una SPA in azienda tutta pubblica. Siamo davvero molto contenti perché all'inizio sembrava impossibile questa operazione e con l'intervento di oggi del Consiglio Comunale si chiude un'altra partita molto difficile e complicata. A dimostrazione che quando c'è volontà, c'è coraggio, c'è intenzione di interpretare le norme in maniera costituzionalmente orientata, nulla è impossibile, anche quando alcuni ti vogliono costringere in una posizione in cui tu potresti non riuscire a fare perché ti vorrebbero mettere da parte, ti vorrebbero mettere davanti il brocardo dell'impossibilità di intervenire. Di fronte a questi atteggiamenti noi dobbiamo invece dimostrare che interpretando le leggi costituzionalmente orientate si può fare. Oggi la nostra grande battaglia, però da qui alle prossime settimane, è quello di ottenere finalmente un quadro normativo e finanziario che consenta ai comuni di poter avere ossigeno per garantire i servizi fondamentali agli abitanti e ai cittadini dei nostri territori.